Buongiorno a tutti quanti, oggi parliamo di usare edizionari monolingui, cioè di italiano, in rete, il che significa che l'accesso può essere fatto con qualunque dispositivo, a partire dal telefonino al portatile, al computer, alla LIM ovviamente. Ce ne sono molti, come italianisti siamo fortunati perché rispetto alle altre lingue europee ne abbiamo veramente molti accessibili in rete di dimensioni diverse e quindi a seconda dell'ordine di scuola possiamo decidere di utilizzarne alcuni o utilizzarne degli altri. Dato che siamo vicini a Natale appunto ho pensato di iniziare con una battuta, anche perché si discute molto del fatto che i nostri allievi anche all'università non sarebbero in grado di capire bene i testi. Allora fra i testi più complessi ci sono sicuramente le battute di spirito perché le battute di spirito si basano su conoscenze condivise implicite, la cosiddetta enciclopedia, che non tutti condividono. Chiaramente una società in cui non c'è Babbo Natale e in cui non si usa scrivere letterine, non capisce molto che cosa c'è qui dietro. Invece noi che abbiamo tutti più o meno un'età in cui forse qualche letterina l'abbiamo scritta, capiamo che qui dietro appunto c'è da parte del Babbo Natale che ci guarda perplessità sulla lingua con cui sono scritte le letterine. Allora, possibili scenari di utilizzare i dizionari digitali a scuola. Lo scenario più semplice, io faccio fare gli esercizi sulla carta, li distribuisco e dico ai miei allievi di consultare il cellulare che si saranno portati da casa. Il Garzanti è il più facile da leggere ma anche i sabatini coletti. Gli altri sono già un po' più complicati, per esempio quello accessibile attraverso la Repubblica è già un pochino più complesso, ma neanche tanto. Il Treccani è difficile da leggere perché ha le voci molto lunghe e anche il dizionario di De Mauro, quello nel sito dell'internazionale, non è facile da leggere, vedremo poi perché ma perché ha una grafica molto poco marcata. Gli omonimi quasi non si vedono e siccome ha le polirematiche uno deve sapere che deve cliccare per avere la definizione e poi deve cliccare per avere le polirematiche da un lato è l'unico di tutti questi che ha delle istruzioni per l'uso molto chiare ma dall'altro non è un dizionario che col telefonino si legga tanto facilmente quindi si possono fare degli esercizi, però io personalmente quando do degli esercizi da fare con il De Mauro molto spesso copio la definizione dentro il computer dove i miei vedono gli esercizi perché di solito io faccio fare esercizi dentro la rete, non soltanto sulla carta però passiamo al scenario più probabile per gli elementari voi che fate vedere per esempio una voce del Garzanti sulla LIM e i ragazzi che hanno delle domande scritte a cui devono rispondere da soli o anche in gruppo il primo problema è capire la domanda le consegne devono essere molto semplici nel sito Esplora Dizionari di cui si parlava prima, questo che poi vi farò vedere io ho anche messo una breve glossario di voci in cui si dice che cos'è un lemma, che cos'è un'accezione, che cos'è un omonimo che cos'è un discriminatore di significato e cose di questo tipo perché quando nelle consegne io dico cerca un discriminatore di significato, musica per esempio è una prima datazione, devo poterlo dire in due righe senza stare a scrivere una prima datazione e un discriminatore di significato è quella cosa per cui individui un particolare tipo dello scibile eccetera eccetera però ci sono anche cose molto più semplici che sembrano che tutti capiscono però io arrivo all'università e mi rendo conto che i miei allievi pur essendo dei professionisti su più di una lingua che cosa sia un sinonimo e che cosa sia un omonimo e che cosa voglia dire polisemia e che cosa voglia dire neologismo semantico è sempre meglio rispiegarglielo da capo quindi capire la domanda è un primo problema se voi fate le cose in classe con carta e penna vedete subito l'aspetto perplesso dei vostri allievi e gli date le cose che mancano quando questo viene fatto online il computer ti guarda ma non reagisce la domanda com'è? noi adesso sono tre anni che facciamo esperimenti con diversi tipi di popolazioni scolastiche anche extrascolastiche e quindi dai risultati, dal tempo di risposta dai fallimenti strani di domandi molto semplici ci siamo fatti un'idea di come fare meglio le consegne consultare il dizionario allora qui dobbiamo affrontare un problema per tutti noi che siamo un po' pre-digitali salvo alcuni consultare un dizionario è una cosa che è successa abbiamo avuto fra le mani questa cosa voluminosa in ordine alfabetico i nostri ragazzi non più non più molti di loro non hanno mai avuto veramente un dizionario fra le mani paradossalmente sono proprio i non italofoni quelli che invece ce l'hanno in tasca da qualche parte lingua madre o lingua ponte italiano e sanno che quell'oggetto è un dizionario e l'hanno già usato ma i nostri digitano su google la parola e si aspettano che venga fuori quello che cercano quindi quando invece noi li facciamo consultare un dizionario online non dobbiamo dare per scontato che loro conoscano il tipo di testo che avranno di fronte cioè bisogna spiegargli che nella civiltà occidentale ci sono alcune regole per cui tu non trovi qualunque parola digiti ma devi sapere qual è la forma di citazione per esempio non troverai la voce al plurale non troverai un futuro non troverai un superlativo e cose di questo tipo devi sapere che cosa cercare in un certo senso e poi anche una volta che l'hai trovato devi capire che cosa significa che una parte della voce è in tondo un'altra in grassetto un'altra in corsivo e digitale anche a colori c'è un'esplosione di colori in quelli digitali devi capire che l'etimologia può essere all'inizio al fondo capire cos'è l'etimologia che la prima datazione è una roba in genere di quattro numeri di data di solito sono quattro numeri a parte sa che le terre che ne ha solo tre ma e forse se scopriremo qualcos'altro retrodateremo ma anche di più il concetto del passaggio da italiano a latino è uno degli argomenti che anche in queste sale appassiona di più detto questo c'è soprattutto da capire che cosa sono i discriminatori di significato che sono molto importanti perché siccome soprattutto il lessico di base e possiamo immaginare che alle primarie si faccia soprattutto lessico fondamentale è costituito da parole che sono fondamentali ma hanno dieci o dodici significati specializzati nei loro ambiti pensiamo a una parola come piano pensiamo a una parola come forte senza andare nei verbi che sono ancora un'altra complicazione e quindi come fa il lessicografo a mettere ordine nella cosiddetta polisemia il fatto che le parole più frequenti e le parole fondamentali avendo una lunga storia hanno accumulato sulle loro lettere scritte tanti significati perché la gente non è tutta come D'Annunzio che creava le parole cioè creare una parola nuova vuol dire avere parecchia fantasia ed essere anche qualcuno che ha buone probabilità di farla accettare dagli altri se no poi uno resta deluso per esempio io sono una di quelli che cerca di far affermare sfusato per jet lagged ma non ci riesco da trent'anni eppure mi sembra un'ottima parola sfusato per dire jet lagged appunto ma non ha preso nessun dizionario registra ancora sfusato ammesso che i dizionari siano in notai del fatto che una parola è diventata la parola del lessico degli italiani quindi di solito che cosa facciamo attribuiamo un nuovo significato a un significante che c'è già prendiamo una cosa antichissima come la navetta la navetta che origini ha prima di essere quella spaziale che adesso non ce n'è anche più tessile infatti la navetta era quella cosa a forma di piccola nave con cui si faceva così e siccome si faceva così poi sui fiumi l'han chiamata navetta poi han chiamato così qualunque cosa facesse un percorso che andava da un punto all'altro quindi abbiamo avuto la navetta dell'autobus e abbiamo avuto anche la navetta spaziale il treno l'esempio che piace tanto a Serianni il treno di Don Rodrigo non è non è un treno come pensano i nostri studenti quando sentono dire il treno di Don Rodrigo ma è il seguito ovviamente e robe di questo tipo quando Dante usa la parola grume non sta pensando né aranci né bergamotti niente del genere sta pensando a cose dal sapore acro tipo cipolle cipollotti e robe di questo tipo di fatti è lui la datazione di quel significato di agrume che nel Treccani è ancora il primo con Ant ma in tutti gli altri diventa l'ultimo letterario obsoleto perché nel frattempo l'agrume è diventato il sovraordinato per bergamotto Pompelmo e con quant'altro allora poi che cosa succede mettiamo che il ragazzo sta leggendo agrume e ha abbastanza notizie per rispondere alla vostra domanda quando Dante dice quale dei significati che sta leggendo pensa di usare e siccome ti danno la prima datazione avanti 1321 e ti dicono nel significato ultimo quello letterario obsoleto e via dicendo tu dovresti poter cliccare fra tre risposte che gli dai quella che dice col significato letterario di cose dal sapore acro eccetera eccetera questo se ho fatto una scelta multipla che è ovviamente il modo più semplice di rispondere sia che uno faccia carta e penna ha maggior ragione se uno deve rispondere su un dispositivo elettronico e allora qui c'è il primo grosso discrimine su cui non mi fermo neanche tanto perché lo sapete anche voi è molto più facile se io faccio una scelta multipla perché l'altro deve solo riconoscere diventa già molto più complesso se io invece gli dico di scrivere qualcosa però le ragioni per cui io desidero a qualunque tipo di scuola che i miei allievi scrivano sono molte non ultime anche vedere se scrivono giusto da un punto di vista puramente ortografico e questo è ancora più importante se l'esercizio viene fatto online in una classe virtuale perché il computer non ha pietà basta che tu non metta una doppia basta che tu non metta qualcosa nella distrazione non metti una i eccetera eccetera per lui è totalmente sbagliato come se tu non avessi neanche imbroccato lontanamente la parola è una delle cose per cui scrivere qualche cosa in un sistema di correzione automatica è una grossa sfida prima per l'insegnante e poi per l'allievo perché l'insegnante per non generare frustrazione nei suoi allievi deve prevedere molte risposte alcune le hanno già affrontate e cioè ti accetto la risposta se tu mi scrivi tutto in stampatello cosa è che i ragazzi adesso non so se avete notato tendono a fare anche quando scrivono a mano scrivono tutto in stampatello io ho visto esami di maturità tre fogli protocolli tutti scritti in stampatello si leggevano bene ma facevano un certo effetto se non altro era neutralizzata la maiuscola non capivi più bene la punteggiatura anche che era aiutata dalla maiuscola quindi il computer lo puoi addestrare a dire accetta che inizi con la maiuscola e le altre piccole che scriva tutto maiuscolo che scriva tutto piccolo con gli stranieri siamo arrivati un po' oltre se ci interessa veramente il significato accettiamo anche se c'è una scempia però gli diamo meno punti non gli diamo ovviamente il pieno del voto gliene diamo metà perché riconosciamo che ha riconosciuto la parola ma non ci sta restituendo l'autografia giusta quindi ci sono molti vantaggi nell'avere la correzione automatica però è qualche cosa che va pianificato prima ecco perché noi chiamiamo comunità dei docenti il posto dove mettiamo tutti questi esercizi perché effettivamente se poi viene un po' suddiviso il lavoro di pensare alle risposte anche immagazzinando le risposte che sono venute da precedenti esperienze con le proprie classi il lavoro si fa meglio questa è appunto la situazione a cui si può pensare che lui lavora sul suo cellulare e mette delle risposte qui erano scritte perché erano in inglese anche tra l'altro oppure fa delle crocette secondo scenario la carta ma anziché il cellulare vi prendete il mal di pancia di prenotare il laboratorio informatico in modo che gli allievi abbiano tutti almeno un computer di fronte o almeno in due se proprio non si riesce questo vi permette allora di passare a dizionari più complessi quelli per cui la voce comincia ad essere 10, 15, 20 righe e che letti sul cellulare sono duri da vedere perché l'inconveniente della visualizzazione sul cellulare è che se una parola è polisemica va accarezzato parecchio questo schermo mentre su un dizionario scusate su un computer che non sia appunto piccolo ma anche già solo un portatile perfino un tablet uno ha più probabilità di riuscire a vedere la voce nell'interezza anche se non la legge tutta però vede che i significati vanno da 1 a 9 e quindi si rende conto che deve pensarci un po' prima di prendere il primo che è tipicamente la reazione più normale allora anche in questo caso deve capire la domanda la consultazione diventa più complessa perché in questo caso io posso decidere di fargli usare dei dizionari più lunghi con voci più lunghi e poi di nuovo come prima cliccare la risposta che sembra giusto scrivere la risposta che sembra giusta terzo scenario computer in laboratorio informatico con piattaforma e dizionario online niente più carta si fa tutto dentro il computer gli esercizi sono nella piattaforma e ci sono i cosiddetti pop up cioè dei link per cui non deve perdere tempo a cercare la pagina del dizionario lo rimanda già direttamente al dizionario notate bene non alla voce al dizionario poi una volta entrato nel dizionario lui deve digitare deve cercare qualcosa in quel dizionario se invece lo rimanda direttamente a una voce è più semplice quindi c'è già una gradualità di esercizi in questo senso se il mio pop up se il mio link va direttamente alla voce l'allievo non deve formulare una domanda nella finestra di interrogazione se invece va solo al sito del dizionario deve già fare quello che Bloom eccetera eccetera chiamano applicare una conoscenza cioè deve mettersi lì e cercare qualche cosa correndo anche il rischio che l'altro gli risponda non ce l'ho e vedremo perché poi scrivere la risposta eccetera eccetera se anche online può controllare il punteggio cioè può vedere subito se ha dato la risposta giusta oppure no e vedere qual era la risposta giusta nel caso si fosse sbagliato e poi anche cosa che bisogna veramente educarli a fare dicendogli valuterò perché se non ti salva la risposta magari perché ha sbagliato tanto e non vuole che tu lo sappia se non la salvi l'insegnante non lo potrà valutare in realtà l'insegnante non lo può valutare ma i sistemisti cioè noi dietro abbiamo anche le risposte che non sono state salvate però il concetto di classe virtuale è che deve sapere l'insegnante che cosa hai fatto se no è come un registro in sostanza e insomma questa è la situazione per cui non ha più carta e fa tutto nel computer qui sta ad esempio consultando un dizionario che non è gratuito online che è Zanichelli nel caso specifico i ragazzini infine questo è uno sviluppo di quello prima in particolare è quello per cui il testo dell'esercizio deve essere breve il testo dell'esercizio deve essere breve perché nonostante sia su uno schermo grande cioè se è su uno schermo grande uno può fare la partizione dello schermo eccetera eccetera ma se io voglio fare tramite cellulare la piattaforma devo tenere conto che ci vuole un certo tempo per passare da una all'altra quindi lo spazio della domanda gli esempi eccetera eccetera devono essere brevi per cui in questa modalità io posso fare solo un certo tipo di domande avendo la sicurezza di ottenere risposte specie con ragazzi giovani mi devo togliere dall'idea di fare domande su manzoni su dante su testi per cui io devo già riportare quanto meno una terzina quanto meno quattro cinque righe di testo per fare la domanda che voglio quando voglio delle parafrasi quando voglio qualcosa in cui c'è una comprensione di testo farlo con il cellulare è un pochino complesso allora qui è una cosa l'ho fatta trovata colorata in inglese allora l'ho portata in inglese ma è la famosa griglia di Bloom rivista da Anderson e Kratford gli esercizi che si fanno con i dizionari non sono mai creativi nel senso della parola che c'è qua perché noi non chiederemo mai ai nostri allievi se non forse nella secondaria superiore di fare una voce di dizionario intendiamoci in giro per il mondo è diventato molto di moda è quello che si chiama appunto wikisionary cioè tu fai un dizionario wiki viene però in realtà anche i dizionari wiki hanno dietro una redazione che ti spiega come si fanno le voci perché se sono soltanto così proprio bottom up dal ruspanti non sono mai delle vere definizioni danno solo la definizione di qualche cosa di gergale di qualche cosa di studentesco di qualche cosa di limitato rispetto a una voce completa creare una voce completa è creare un tipo di testo molto complesso quindi personalmente io non consiglio di creare delle voci a meno che non si tratti di fare un glossario specializzato ad esempio all'interno di un istituto tecnico che deve leggere dei testi magari in situazione di content language integrated learning e decide come lavoro di classe di tutto un anno di costruirsi un glossario perché non è soddisfatto di quello che trova nel bilingue allora può avere un senso ma allora in questo caso si fa una parte della voce non si deve costruire un'intera voce in ogni caso anche lì c'è tutto un problema di definizioni quindi di scelta di parole che a loro volta siano definite un problema di esempi un problema di decisione di chi deve capire queste definizioni e insomma scrivere un dizionario scrivere voci di dizionario è una cosa da professionisti quindi io penso che farebbe perdere troppo tempo in una normale classe che ha tante altre cose da fare cercare di allenare gli studenti a fare questo c'era stato un periodo in cui con il CNR di Pisa circolava una cosa che si chiamava addizionario che era già online era molto bello giocoso colorato era per gli elementari proprio in cui i bambini disegnavano raccoglievano definizioni dal nonno dal papà le scrivevano eccetera eccetera come tutte le cose online aveva tanti vantaggi ma ha avuto il vantaggio che finito il progetto più nessuno ce l'ha e quindi ci sono due tre articoli ma il addizionario in sé non c'è più è stata una delle grandi perdite che abbiamo avuto lì però era una cosa molto giocosa era far finta di fare delle definizioni pian piano tutti insieme come lavoro di classe addirittura di scuola in realtà tutti i tipi di esercizi che io propongo sono sulle altre parti e soprattutto il processo applicare perché sono l'esito dell'applicazione di determinati processi cognitivi sono delle capacità di base che vengono applicati a dei contenuti delle categorie di conoscenza quindi riguardano conoscenze fattuali e concettuali che richiedono di ricordare e riconoscere comprendere nel senso di classificare confrontare esemplificare le classiche domande in questa frase la parola forte che cosa significa io ho la definizione di forte in un dizionario monolingue e vedo che la frase dice il forte di exil non fu mai espugnato e allora vado verso 9 o 5 giù di lì dove dice esercito militare robe del genere costruzione così e cosà e quindi confronto e capisco che è così analizzare che è di nuovo differenziare organizzare attribuire una conoscenza procedurale necessaria quando io invece chiedo di integrare parti di definizione omesse per esempio negli ultimi mesi abbiamo fatto un esperimento con studenti universitari di varie parti del mondo abbiamo dato parole difficili ma di origine greco latina quindi condivise anche dagli inglesi tipo licantropo cose del genere no ignifugo onnivoro e cose di questo tipo abbiamo dato delle brevi definizioni e abbiamo lasciato da riempire ad esempio onnivoro che mangia e volevamo tutto no oppure licantropo e volevamo lupo da qualche parte ecco questo tipo di processo è già difficilino ed è procedurale comunque il più pervasivo è quello di applicare visto che gli esercizi suggeriscono di consultare il dizionario per rispondere applicando quello che ho letto la conoscenza beta cognitiva è chiamata in causa quando si chiede allo studente che cosa hai usato per rispondere allora noi all'inizio lo facevamo perché io avevo particolari intenti anche di migliorare i dizionari online e quindi volevo sapere che cosa era stato utile all'allievo per rispondere in un determinato modo poi però ho capito che non dovevo fare delle domande metacognitive perché i casi erano due o mi rispondevano che non avevano consultato il dizionario perché volevano di fronte all'insegnante far vedere che sapevano già tutto o mi rispondevano che l'avevano usato per farmi piacere perché dice questa fa le ricerche sui dizionari contentiamole diciamo che le abbiamo usate ma io vedevo dai tempi di risposta che era materialmente impossibile che avessero consultato alcunché forse google ma non un dizionario quindi ho smesso di fare domande metacognitive e faccio degli esercizi che implicano degli approcci metacognitivi ne vedremo uno sulle polirematiche